Eeeh... Qua... Proviamo a vedere in sostanza che c'è Buongiorno C'è un piccio? Si... Eeeeeh Però mi hai rotto il cazzo Ma che cazzo vuol dire? Riuscite a morderli Anche a me Ma avete rotto la minchia però sto gioco raga Eccolo la Meno male a questo non l'aspettavo Ma perché? Ho le munizioni della Magnum addosso Porco di... Poi di mi sono dimenticato di posare... L'Incribo E vabbè Ma me lo sto portando dietro Mi girano i coglioni Questa c'è la sanguisuga giusta Esatto E niente, quindi sai cosa vuol dire? Che comunque dobbiamo tornare indietro Vabbè qua mi fa arrabbedire E quindi tra l'altro potevo anche risparmiare le mie munizioni Potevo prendere questa e andare via Vabbè è andata così Ma dove... Aspetta però lì c'è una roba da... Quella bobina lì che cazzo è? La dobbiamo mettere in quella porta boh? No dobbiamo mandarla a lei Non vorrei che si apri il gas Ah ok Non lo so eh Perché c'è una forma cilindrica Come dici te Esaminiamo E quindi... Ah indispensabile per far funzionare nuovamente la funivia Eh, boh Quindi comunque la mandiamo a lei Va bene E niente Adesso questo mi chiediamo a mazza Allora però c'è un'erba verde che io a questo punto uso perché... Hai capito? Proprio così Vabbè non mi ha preso Fin quando son così Va bene E allora arrivati a questo punto cos'è che c'ho in mano? C'ho la sanguisuga giusta Allora Allora cosa stai cazzo di cosa? Abbandona un po' Poi c'ho la sanguisuga giusta e la bobina Tutto a lei va mandata Tutto a lei Quindi lei deve tornare Dai un salvataggio Orco mi son cagato in mano Allora No ma non è qua Cazzo Sai cosa manca? All'universo Manca un gioco così Però da giocare in cooperativa Ah tu dici ti presenti con il 5 Però così C'hai capito? Che io faccio te e tu fai l'altro Siamo in parti vocale perché i due hanno la radiolina Però te sei da una parte della mappa e io dall'altra Ci mandiamo le robe col montacarichi Non si splitta lo schermo Capito? Ognuno in una parte Eh potremmo scrivere a Capcom capisci? Poi per carità qualcosa di Aspetta Cos'è? 2 seconda 2 seconda Beppe Ok C'è di peggio insomma Ma conti di beccarlo o che cazzo facciamo? Ma scusa chi è beccato? Io sono Eh raga qua spariamo a Gesù Cristo spariamo No dicevo Che Picia Quanto mi ha tolto? Vabbè sono ancora su ok dai Ho tolto il gommino al joy per cazzo Aspetta un po' Ok Lo stavo dicendo Stavo dicendo che Qualcosina di giochi stupidi indie così li han fatti Ma sono horror del cazzo da fare su Twitch Non sono robe serie Eh sì Non è una roba da Capito Non è Allora Li vedo Un cilindro come dice qua mio fratello Perché? Ma tu sei passato da quella porta Che porta? Quella di con la sanguisuga Sì 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 Agente serializzante Ah poi ti stavo aspettando qua Ok Se parla non mi senti No Agente serializzante Parabellums Ecco perché stavi sparando Io ho detto Ma qua non c'è un Cristo di nessuno È un cadavere all'interno di un sacco mortuario È stato infilzato senza Ah infilato senza troppo cura Sì sì è qua praticamente abbiamo trovato La roba da ficcare nel coso del gas Questo si alza prima o poi perché è bastardo Io lo so Vero? È già stabilizzato Eh per ora è passato attraverso ma lui è bastardo Vabbè intanto abbiamo un'erba d'osso e un'erba verde sotto Che io l'ho lasciata lì Sì sì per carità Raga che ficca sta gente va Vai va Dai vada Guarda che lì c'è nell'altro E lì c'è una chiave de Cristo Vi alzate tutti insieme beh Mi sta dicendo questo Allora Usa È però zio Se ti sparo dovresti farmi il favore di Sì Ah può entrare lui Però non si fa così ragazzi Eh sì Au Au Porco Allora va bene Cerchiamo di capire che chiave ho qua Combina Abusa Abbandona Esamina Bastardo Incisa Col vito col volto di tua madre Ma Siamo calmi Tanto Ho già capito che Devo usare questo Poi Voglio vedere la mappa La mappa perché Lì la stanza di salvaggia che c'è sotto Dove me la devo ficcare sta chiave ragazzi Non sto capendo sai Anch'io O di vendergli da lui Lui dov'è in questo momento che sta facendo della sua vita Lui qua sotto Però Con lui abbiamo trovato una porta rossa No forse no Non è con lei nella porta quella inferriata su Che non è che era chiusa Lei c'è una porta inferriata su Su mi pare di sì Ma su dove È prima della funivia Aspetta Forse mi sto confondendo Ah guarda qua Hai ragione Però Beppe Stanza di allevamento Non hai bisogno di questa chiave Gettarla via C'hai buona ragione Attenzione ragazzi Vogliamo dare una salvata Ehm Sì Qua io vado avanti Qua io vado avanti però No Beppe qua ci sono i cani Io vedo delle gabbie quindi qua ci sono i cani E io non ho un fucile Dov'è Dove ho lasciato i coni Dibbo E questo è un problema Provo a correre Ehm Passare Però raga non lo so Eh lo so Lo so Lo so Lo so raga lo so Lì c'è una nota Lì c'è una nota Qua c'è Cristo L'altezza della gabbia corrisponde a tua madre E lo so lo so Però Però se non li raccogli abbiamo un problema Lancio questa Guarda che è fatto apposta eh però C'è un oggetto lì Non lo raccogli Ma hai rotti i coglioni Allora No però se è su attenzione no Allora raga Ammazzami pure Perché non è così che si fanno le cose Allora Rapporto arma biologica Le ricerche hanno dimostrato che quando il virus progenitore Viene somministrata agli organismi viventi Si verificano robe pazzesche Il sistema con l'asse inoltre Non è stato ritrovato alcun metodo efficiente In grado di controllare gli organismi Utilizzarli come armi Appare evidente che una maggiore coordinazione A livello cellulare è essenziale Per consentire un'ulteriore crescita Ho condotto uno svariato numero di esperimenti A fine di assicurare dei progressi in tal senso Ecco i risultati Insetti Forse a causa del sistema è geneticamente stabile da millenni Io però in posto devo abbassare sta musica Perché ha rotto il cazzo Eh vabbè Questi antichissimi esemplari Geneticamente stabili da millenni Questi antichissimi esemplari L'assimministrazione del virus progenitore Ha scatenato una crescita violentissima Della loro forza E un non temore aumento dell'aggressività Appare piuttosto difficile Un loro impiego come armi biologiche Anfibi Iniezione del virus in una rana Ha provocato l'aumento nella potenza di salti E una crescita abnorme della lingua Tuttavia non è stato rilevato nessun cambiamento nelle capacità mentali Inoltre la chiave ha palesato un appetito anormale Che l'ha spinta ad attaccare qualsiasi oggetto in movimento L'utilità per l'alba biologica è limitata Mammiferi Il virus progenitore è stato combinato con il DNA cellulare di una scimmia Provocando un aumento della fertilità Gli esemplari derivati hanno mostrato una crescita dell'aggressività E un miglioramento di alcune capacità mentali Come effetto collaterale i soggetti hanno perso le capacità visive Anche se tale inconveniente è stato controbilanciato da un miglioramento delle capacità uditive Tuttavia Un loro eventuale uso bellico appare piuttosto inefficace E' ormai evidente che qualsiasi progresso Si debba fare con l'uomo Mi hai rotto il cazzo Rana di merda Permesso Allora Io devo prendere questo Allora L'ho preso E ora devo correre Ehi la Eh lo so lo so Dai 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 fa passare va No Gino Sto morendo Sto morendo Eh se sti bastardi mi bloccano è la fine Eh sono morto Però però ho salvato prima Quindi perché poi li ho trovati in Cribbon Il problema è che io mo la cura l'ho sprecata prima No io no io ce l'ho ancora E mo c'ho adesso perico Ah ok E mo c'ho adesso perico Tanto io sto appena salvato me lo rifaccio fin quando non lo faccio perfetto Cioè nel senso sono Cioè il salvataggio tattico lo rifaccio fin quando non mi faccio toccare Ah dici facciamo così si può fare Tanto abbiamo salvato un secondo prima sta roba qua Quindi Ma hai ragione Infatti non suona anche la combinazione Adesso così ci pensi La combinazione te l'ho detta io prima Te l'ho detta io prima l'alta voce Esatto Leggendo un documento Ma te ovviamente Eh se stavo concentrato a fare un'altra roba mi sarei un tosto sentito Pensa Quale è l'aspetto? Eh la trovi in un documento Sempre se l'ho capita bene eh E' vera Mi è proprio scassato il cazzo però eh Nooo ho fatto un errore di valutazione Cazzo Non ho preso la manovella Porco Allora Mi pare che fosse Non sembra essere la combinazione giusta Qua c'è ancora una foto Eh 1-9-3-9 No 1-9-3-9 No Perché c'è una vecchia fotografia Poi C'è scritto Ah ricordo come cerimonia di laurea nel 1939 No ma non mi sa Eh Beh possiamo anche provare Però in realtà Sì Ti spiego Vabbè proviamo così No no Allora Senti Siamo canni Perché io con sto bordello non ci faccio pensare Ragazzi Mi fa tutto tutto sto bordello da madonna Allora fammi ricaricare Eh fammi ricercare il documento Perché l'ho letto prima Era 8-4-2-1 raga Cioè non è che ci andasse Cristo Allora vedi perché qua dice Che la nuova combinazione Si basa su qualcosa di particolarmente significativo Sulla crescita di sta minchia Ok E va bene E poi quindi a questo punto dobbiamo andare sul diario di Marcus2 No Cazzo adesso dimmi che non l'ho più raccolto Perché io sto provando a cercarlo ma C'è un problema Mi sa che non l'ho più raccolto poi io quel file lì Io pure mi sa Perché trovi che lo sto cercando però Eh merda 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 Adesso va a sapere dove cazzo era Cazzo era Esatto E' un problema Perché lui mi ricordo Mi ricordo Aspetta Io spero di ricordarmi Lui diceva questo Ah intanto Prima ti ho detto 8-4-2-1 Ma ti ho detto una stranzata Lui diceva Le sanguisughe sono 4 Sono successe cose Le sanguisughe sono raddoppiate Quindi da 4 sono 8 Sbaglio Esatto Poi diceva un 2 E dopo aver detto un 2 Anna certa diceva Poi si sono dimezzate Quindi io ho dato per scontato La metà di 2-1 Però se effettivamente Se ti riferisci alle sanguisughe E' di nuovo 4 Quindi o è 4-8-2-4 Ora 4 Pronto? 8-2-2 No, non è quella Io non so dove sia quel documento Però è un problema Anch'io Guarda, guarda che è qua Aspetta Ho ammazzato sti qua Sprecandole la roba Ci sono Era qua Allora 4 In rosso Nel giro di un'ora Il loro numero raddoppia Quindi rosso raddoppia Quindi 4 diventa 8 E poi c'ho un 2 Blu E poi 2 dice metà Sempre in blu Vedete che mi ricordavo bene 4 sanguisughe E ho provato a metterla Il loro numero raddoppia Nel giro di un'ora 4 La doppia sono 8 E' stata aumentata repentinamente La quantità di bici ho fornito Ma 2 esemplari Ah, fermo Sai che sono veramente Un demente del cazzo Fermo 2 esemplari sono andati persi Che pezzo di imbecille 4-8-6-3 3 4-8-6-3 4-8-6-3 Cioè io vorrei ammazzarlo Perché sarebbe tutto Molto più semplice Però non Non posso aspettare Quelle poche cose che c'ho Non posso Anche perché quelle lì Diciamo che Di probabilmente due colpi Allora ce l'ho fatta Facendomi emozicare Solo una volta Sono ancora su ok Che roba Dimmi solo dove Dove spunti Oh, magari potrei usare questo Rebecca è qui Billy Ho trovato qualcosa qui Che potrebbe renderti piacere È un carattere aereo Cable Sì? È fantastico Ora possiamo fuori Sì Siamo rilassurati Prima di possibile E niente Vabbè ci sei Eh sì aspetta Ci sto provando A prenderla adesso Non ci credo Non è vero Ma non è vero Ma ce l'ha lei Come è possibile Ah dice una scala No perché Qua 4863 giusto? Ho premuto una leva Se mai l'avessi fatto Perché l'ho fatto Ok Interessante Allora Io penso di Se mi ricongiunto a lei Boh Io ho capito forse Dove sei Perché sei la funivia Esatto Boh Io direi Perché lì c'è un salvataggio E penso che poi Andiamo a funivia di Qua cos'è? Qua c'è una bobina d'uscita Si ora Si ora sai qual è il problema Beh Ora che siamo in due Magari ce la facciamo ad ammazzarlo Quel bastardo Solo perché abbiamo tutti gli oggetti lì Allora siamo calmi Ora che siamo in due Ora che siamo tutti assieme Dobbiamo fare lì Esatto A parte che mi manca una roba Primo Cosa ti manca? Un tubo No Forse è lì E i piedi del tizio Va bene Ora si è aperta sta porta praticamente Mi stai dicendo questo? No è ancora chiusa E allora? E allora? È solo che praticamente Ti girate le camere No no Beppe Serve Serve il rampino Che è qua Fortunatamente io ce l'ho in questa stanza Vedo il rampino Si Ok Una volta che siamo qua Qua ci sono delle munizioni pazzesche Però prima Inficca le robe Vai Allora Esatto Prima Allora Prima Dobbina Ma poi sembra troppo alto Ma che cazzo dici? Ma buttati Non rompere i coglioni E perché non ha raccolto queste munizioni? Dai Usa l'altra bobina della minchia Blocco la porta Sono cagato in mano Va bene Porta adesso è aperta Pazzesco Niente a sto punto Lo salverei qua Diamo un salvataggio E preghiamo che ci porti gli oggetti Sì ma lo diamo doppio Lo diamo doppio Lo diamo doppio Io lo do sotto In modo che Carichiamo quello sotto Vediamo che succede Perché per me li porta La roba intelligenza E non li porta Ci riporteremo A parte che tanto Portarseli qua Poi vai via C'è senso No Portami a avere le armi addosso Deppe Le cure sotto Abbiamo delle erbe sotto Che non le abbiamo preso No io Quale? Quella vostra Quella verde? Eh Io sono riuscito a prenderla Eh buon Lui è riuscito a prenderla Capito? Io sono riuscito a prenderla Infatti adesso Le due a lei Le combina Vabbè raga Allora vediamo un po' Guarda 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 Io penso Che Con lei posso scattare rampine No Cioè posso abbandonarlo Fai tu Io sto provando ad entrare nel treno Prova di entrare nel treno Eh è troppo pericoloso Per proseguire da solo raga Allora che cazzo ci fai fermo Come un imbecille di merda Non lo sai spiegare? Ragast telecamere Porco di... Questa Oh Gesù Cristo Maledetto Vabbè raga Vabbè raga Vabbè borra il territoriale Boh Salvo Non ho il testo di fammi un boss Dimmi solo come si è fattibile o no? Vabbè borra il territoriale Vabbè 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 non capisco ci torte si piantano se vado giù c'è questo qua a spaccare la minchia suca suca vabbè insomma ragazzi ma c'è albert wesker seduto praticamente c'è lui è caduto giù prendere magnum si si prendi magnum i colpi ce li ho in un altro stato però prendi la magnum ti va a funi via ti è riuscito ad andar via se ti farò sapere che succede con il discorso oggetti ok esperimento concluso avviare la funi via no ma raga ma quante cazzo di volte me la fai avviare la funi via cosa significa posso andare in un senso e nell'altro è un problema qua mi da due piante verdi e basta nessun altro oggetto i miei oggetti sono rimasti indietro quindi all'uscita della funi via gli oggetti rimangono indietro io non ho nessun oggetto di quelli che ho lasciato indietro posso provare a andare nell'altro senso della funi via perché qua me la fa usare in più sensi porco allora praticamente si ti fa tornare ti fa tornare indietro se vuoi con la funi via però gli oggetti rimangono dove sono ok ho ragione io e io non ho le forze di far avanti e indietro no no adesso no basta